Proprio perché il tema più generale, al di là degli autoridotti, è quello dell'amorosità. Stiamo cercando di introdurre un principio importante dentro il nostro regolamento, cioè che anche per qualunque sia il motivo dell'amorosità non si può staccare l'acqua, ma si deve, laddove è possibile, limitare il flusso, cioè porre un rubinetto per cui l'utente ha comunque una quantità minima di acqua che corrisponde a quello che è il quantitativo minimo vitale per sopravvivere, perché l'acqua poi è un bene per la vita. Così Alessandro Mazzei, direttore generale dell'autorità idrica toscana, fa chiarezza sugli episodi di interruzione dell'erogazione dell'acqua per gli utenti che hanno aderito alla campagna di obbedienza civile portata avanti dal Comitato Acqua Pubblica e che nei giorni scorsi è finita in tribunale. Nella giornata di oggi era in calendario un'assemblea con all'ordine del giorno le modifiche proposte proprio da nuove acque alla normativa regionale e riguardanti appunto morosità degli utenti, allacciamenti, regolamento fognatura e manutenzione. Un incontro a cui hanno preso parte i rappresentanti dei comuni di Arezzo, Bibbiena, Castelfocognano, Castiglion Fiorentino, Sansepolcro, Civitella in Valdichiana, Cortona, Monte San Savino, Foiano della Chiana, Monte Pulciano, Laterina, Chianciano Terme e Pergine ed alcuni rappresentanti del Comitato Acqua Pubblica. Il punto fondamentale è sempre quello, cioè da dopo il referendum noi abbiamo lanciato la campagna di obbedienza civile in tutta Italia dove riteniamo che l'esito del referendum e massima espressione di democrazia non è stato rispettato. Appunto, oneri finanziari e oneri fiscali sembra che in sostanza hanno cambiato il nome a quello che era la remunerazione del capitale investito ma in bolletta è sempre presente. Non a caso noi ad Arezzo ci sono un migliaio di utenze, quindi di famiglie, che si autoriducono la bolletta appunto chiamando la campagna di obbedienza civile perché secondo noi obbediamo alla legge, non siamo morosi, secondo il gestore siamo morosi. Nel corso di questi anni abbiamo ricevuto continue minacce, siamo sempre andati avanti. Ora il gestore è arrivato a slacciare l'acqua a delle famiglie e la consideriamo una prepotenza bella e buona perché appunto è pendente questo ricorso al Consiglio di Stato.